Il Made in Italy è un valore che può essere estremamente coerente con la sostenibilità perché l'Italia potrebbe diventare il paese della sostenibilità. Ci sono tutta una serie di requisiti di base per poter spingere questo concetto e penso che ci sia una forte possibilità di sinergia tra i due concetti, come pure col valore della creatività e del design. Quindi ad abbinare design, creatività, made in Italy e sostenibilità credo potrebbe essere qualcosa di assolutamente vincente sui mercati internazionali. Il rapporto con il mondo del design e della creatività in genere è un rapporto estremamente importante. Da anni a Catara ha un rapporto privilegiato con il mondo del design e della creatività che è cresciuto nel tempo. Nelle mani del creativo Alcantara diventa una parte integrante del processo creativo-artistico e diventa lo strumento attraverso cui l'artista esprime la propria creatività. Questo è un fatto estremamente importante che noi incoraggiamo e di rimando abbiamo tutta una serie di informazioni e di idee da questi creativi e questo processo è talmente importante che è diventato parte integrante della nostra strategia di business.